Ciao Keglios, grazie, il tema è fantastico e importantissimo. Io vorrei esottire dicendo appunto che senza peso non potremmo arrampicare, perché il peso alla fine non rappresenta altro che la gravità. Se andassimo sulla Luna e quindi in un ambiente senza gravità, ovviamente l'arrampicata non ci avrebbe senso, perché noi potremmo fluttuare nello spazio e quindi non potremmo avere la percezione di quello che noi facciamo. Io ho constatato che le persone in sovrappeso imparano molto più velocemente, proprio perché hanno più percezione del peso. Questo cosa vuol dire? Che se l'arrampicata è uno sport di equilibrio, l'equilibrio non è altro che la misura della relazione è che noi abbiamo con quello che ci circonda, la misura della relazione. La relazione di fatto con quello che ci circonda in questo pianeta è la gravità, è quello che ci tiene collegati al manifesto, e in questo caso è quello che ti tiene collegato a terra e anche nella roccia. Quindi in realtà, qui stiamo un po' spatando tutti i miti, la superstizione che uno per arrampicare deve combattere la gravità, in realtà ci si entra in relazione, bisogna comprendere come muoversi al meglio per spostare il proprio corpo nello spazio, nello spazio che può essere un piano orizzontale come un piano verticale. L'unica, diciamo, lotta, tra virgolette, ma in realtà non è una lotta, ma è sempre una comprensione, è quella appunto definita dall'impegno nel cercare di comprendere che la maggior parte dei comportamenti acquisiti, diciamo, sul piano orizzontale, sul verticale non funzionano, perché è necessario un adattamento, e quindi bisogna riprogrammare i comportamenti con dei movimenti in maniera tale che riusciamo a muoverci in disinvoltura anche su un piano che non è naturale, quindi legato all'istinto. Detto ciò, da qui, appunto, torniamo al peso. Chi pesa di più all'inizio e anche in futuro, ovviamente sentirà di più l'errore, avrà una percezione più alta, perché come fa chi pesa tanto il piccolo errore non riesce a compensarlo muscolarmente. E questo in realtà è un pregio. Perché? Perché chi compensa muscolarmente a tutti gli squilibri in realtà farà affidamento sempre sulla forza e quindi andrà ad alimentare tutto quello che è legato alla condizione fisica che è finita. Perché? Perché non si può stare sempre al massimo. Mentre chi lavora sulla percezione, quindi sul movimento e sull'agilità, attenzione che non è dovuta al peso, l'agilità, è questo il concetto. Il peso ti aiuta a comprendere come fare meglio i movimenti, perché ogni volta che sbagli, cadi, o perché non riesci a compensare muscolarmente il disequilibrio. Ok? Quindi, la forza, se noi alimentiamo la forza, la forza finisce. Ma non perché finisce perché uno invecchia, finisce perché la forza c'è un tempo limitato. Tutti gli studi, chiedete a tutti gli specialisti, ai fisiologi, la forza dura poco. Ok? Mentre l'agilità è infinita, perché fa parte di un patrimonio di conoscenza. E quindi se noi affidiamo, ci affidiamo e puntiamo sulla conoscenza, ovviamente abbiamo un terreno infinito. L'altro problema è quello legato alla velocità di apprendimento e alla velocità appunto di sviluppo, cioè quanto tu, quanto prima possibile, riuscire a fare determinate cose. Ma prima di questo, per rispondere proprio a questo, dico, va bene, ok, ma tu, prima cosa, devi pensare al motivo che ti ha spinto ad arrampicare. Cioè il motivo che ti spinge ad arrampicare è fare più velocemente possibile un numero o tu provi gioia nell'azione, appunto nel momento in cui tu arrampichi, perché entri in relazione profonda con te, ascolti e capisci quello che tu sei in grado di fare o che non sei in grado di fare e quindi andare a capire come migliorarsi e quindi darsi possibilità, che è un concetto di no limits. Quindi la soluzione per me è il pensiero, cioè ragiona effettivamente su il perché che arrampichi è il cos'è l'arrampicata. Se arrampichi per stare bene e sviluppare e amplificare il tuo potenziale, la risposta verrà automaticamente e quindi ti sgancerai dalla distrazione di fare dei banali numeri, perché comunque quelli arriveranno. Poi, che cos'è l'arrampicata? L'arrampicata è uno sport di equilibrio che non è nient'altro che la misura delle relazioni che tu puoi avere. Sostenibilità ed efficienza, quindi quanta energia immetti nel sistema, quanta te ne torna e se questo nel tempo lo puoi sostenere. Quindi queste sono le regole per risponderti e non incorrere nella patologia. Quindi queste sono le regole per risponderti e non incorrere nella patologia. Io ripeto, la patologia, sì, si evince fisicamente, ma parte da un'interpretazione errata delle informazioni o da una carenza di informazioni stessa. quindi il peso è importante, sì. Quanto devi pesare? Quanto pesi. Poi il tuo corpo si adatterà. Ovviamente, come nell'arrampicata, dovrai avere cura di quello che tu fai, delle tue azioni. Questo è anche l'aiuto dell'arrampicata, è quello che secondo me appunto è un'opportunità perché ti aiuta a comprendere come devi eseguire determinate azioni. Quindi se io immetto delle cose dentro il corpo, qual è il senso di mettere delle cose dentro il corpo? È quello di nutrirsi e quindi devo riuscire a alimentare il mio organismo. Quindi è il tipo di alimenti che mi metto dentro è quello che poi mi darà energia. Tutto sta nella velocità. Nell'arrampicata non puoi correre. Non puoi correre. L'arrampicata per me è, diciamo come punto di riferimento, l'arrampicata a vista. Nell'arrampicata a vista appunto non si può correre. Ti devi fermare. Devi prima fermare, devi capire cosa devi fare e poi lo fai, lo metti in atto. Quindi la soluzione è pensarci. Cioè quando io mangio mi sto nutriendo o sto reagendo e utilizzo quella cosa in maniera tossica. Tossica vuol dire che io utilizzo il cibo per andare a sopperire delle problematiche emotive. Ma quello banalmente secondo me col momento che uno si ferma le comprende queste cose. E quindi smette di reagire. E quindi smette di reagire. Ed entra appunto nella cura del sé. Un altro pericolo che ho dato tra virgolette dei ragazzi è non è solo quello che si mangiano ma è quello che bevono. Ora vanno tantissimi moda gli energy drink. E' quello che è tutta la campagna e come i grandi sponsor che noi vediamo nella rampicata è la Red Bull. Io quello che posso portare è una testimonianza. Allora se uno dice vabbè non me ne frega niente io sono potente e a me tutto non mi tocca. Io ti posso dire gli effetti. ovviamente io ti parlo da una persona che ha che le ha provate un po' tutte del bene e del male come atleta e anche come insegnante cioè gli errori fanno parte del giochino. Io una volta ho organizzato un corso di ghiaccio ai serrai di sottoguda e quindi con un gruppo di allievi della palestra siamo andati con la guida alpina nei serrai di sottoguda a fare veramente uno stage di un corso di ghiaccio. Questo viaggio l'abbiamo organizzato di notte perché io dovevo chiudere la palestra e dopo la palestra bombe partire andare a fare questo corso di ghiaccio. Ovviamente quando mi sono messo al volante dopo tutta allora io la mattina avevo arrampicato tutto il pomeriggio l'avevo portato a lezione in palestra alle 11 ci vediamo e partiamo e guidavo io. Da lì ho detto vabbè genialata c'è la Red Bull io prendo la Red Bull insomma morale della favola per arrivare a sottoguda che da Roma sono tanti chilometri mi sono fatto due Red Bull insomma sono stato male due giorni cioè io per avere tra virgolette quell'efficacia immediata per avere il risultato subito in realtà mi sono rovinato quei tre giorni di ghiaccio che poi sono stati un delirio perché stavamo a meno 16 chi conosce Serrai lo sa meno 16 all'ombra dentro un canalone di vento ghiacciato non mi attivava niente ero finito un uomo finito che non avevo più energia è stato un incubo è stato un incubo da lì io che ho fatto non sono più stato ai Serrai di Sottoguda perché l'ho visto talmente male che non ci sono più andato ovviamente pensarci dice sì ma non c'entrano niente i Serrai di Sottoguda c'entra Red Bull sì dopo quando uno ci pensa ma lì per lì il risultato è stato questo e quindi io inconsciamente ho creato un problema abbastanza grande cioè mi sono levato una cosa per cosa fare? per arrivare subito al risultato? per non fermarsi o per non dare il cambio alla guida? chiudendo tutto il discorso quando c'è o facciamo un'azione fermiamoci e pensiamo cioè questo è quello che io ti consiglio ed è quelle domande che mi sono posto io ti consiglio ti consiglio di portarle costantemente perché lo faccio e cosa sto facendo il cosa sto facendo non è mio se io vado a arrampicare che cos'è l'arrampicata? è ovvio che se tu pesi su poco puoi salire più agevolmente subito ma dov'è il gusto dell'avventura e dov'è lo stimolo al miglioramento? nel fare trazione in garage o nel farsi vedere in spiaggia? quindi lo fai per te o lo fai per gli altri? equilibrio la vita è bella perché noi tutti siamo speciali e ogni giorno che noi andiamo a arrampicare o conosciamo nuove persone impariamo sempre perché ognuno di noi è diverso ed è lì l'avventura è comprendere la diversità e farla propria questo equilibrio non è tanto lontano dall'amore perché per riuscire a diciamo ad avere successo uno deve riuscire ad arrivare prima alla passione e poi trasformarlo in amore vuol dire che tu quello che tu fai non ti costa più energia ma te la dà l'altra domanda che mi ha fatto Kelios come si fa a vedere nelle persone le diciamo un cattivo rapporto con l'alimentazione si capisce prima cosa dall'umore la seconda cosa si può anche capire dalla pelle vabbè questo bisogna avere un occhio esperto allora quali sono i segnali i segnali dipendono dalla qualità della relazione che noi abbiamo con le persone che ci circondano e secondo me sono anche il senso della rampicata stessa come ho detto precedentemente cioè io se entro in relazione con una persona per dirti che mi deve tenere la corda non posso avere una relazione frivola io gli sto mettendo la mia vita nelle sue mani uno due il mio divertimento lo metto nelle sue mani per ovvi motivi perché lui mi permette di manifestare di essere tranquillo tranquillo e potermi esprimere al meglio e quindi non mi devo preoccupare se lui è capace o no ma ancora peggio è se lui è attento o no o se è motivato o no non me ne posso preoccupare sopra quando arrampico me ne devo occupare nel momento in cui io gli sto dando la mia vita in mano prima quando gli do la corda ok mi prendi in sicura ovviamente prima ancora io ci devo avere una relazione un rapporto con questa persona quindi come si capiscono le problematiche alimentari con una persona diciamo è spenta non è motivata non è solare e il buon rapporto col cibo è anche un atteggiamento proprio la delicatezza e l'importanza di queste tematiche legate a questa disciplina che sono molto 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 forti io preferisco avere un rapporto personale partendo da una metodologia e una didattica standard poi in realtà tutto quanto viene riadattato alla singola persona che ha bisogno di un linguaggio differente con le proprie peculiarità per il proprio momento quello che sta vivendo come si sente per instaurare una relazione l'altra cosa importante è che per arrivare ai vertici quello che devi sapere e che devi circondare di persone devi entrare in relazione con altre persone quindi si parla sempre di staff e di equippe lo so che il modello diciamo l'immagine collettiva dell'arrampicata è sempre legata ancora al superuomo all'individuo ma di fatto non è mai stato così e non è così c'è sempre dietro quella figura c'è sempre un lavoro di equippe quindi per essere uno che pratica la disciplina ad altissimo livello deve avere intorno tantissime persone che collaborano con lui e che gli permettono appunto di fare quello che si fa per dirtene una tutti questi arrampicatori che escono tutti i giorni si tu vedi quello sulla parete ma c'è sempre uno sotto che tiene la corda e oltre a quello sotto che tiene la corda c'è il dietoro l'allenatore il preparatore fisico il massaggiatore il terapista io mi faccio terapia almeno una volta a settimana fra terapia e massaggio oltre alle situazioni di stretching il preparatore che mi riguarda le posture il medico cioè è un lavoro di equippe quindi non ti devi sentire solo ma in realtà devi incominciare a relazionarti con gli altri nella maniera migliore in modo che ti possano aiutare a esprimerti al meglio permetterti di fare quello che tu vuoi anche perché andare a arrampicare da solo dov'è il divertimento anche se tu poi dopo non lo puoi raccontare a nessuno lo faresti sì potresti anche farlo una volta ma sempre così la condivisione io credo che sia una cosa che fa parte dello spirito umano parola d'ordine divertiti esplora conosciti amati questo è il velo dell'arrampicata liberati esprimiti alla prossima ciao grazie Kelios grazie a tutti